bentornati sul canale dove si scherza sulle cose serie e si serieggia sulle cose scherzose per un video in lo cache... scusi salve salve mi stai a indicare l'isola d'elba ma noi ci conosciamo che accade? no non sa di nome io sono... arrivo da lì se si butta a nuoto in quella direzione in un paio di giorni ci arriva